Benvenuti in un nuovo video, oggi faremo un video un po' diverso dal solito versus, faremo un assaggio verso un versus perché ho qui davanti a me tantissimi tipi di kit kat partendo proprio dall'origine a finire un po' quelli là un po' più particolare ovviamente non ho scritto nel video tutti perché non sono tutti, so che esistono anche alla zucca, al matcha no, al matcha ce l'ho, alla zucca, al cheesecake, davvero in tantissimi gusti, solo che io lo faccio con questi qua che ho trovato qui a Damiro nei suoi mercati in tutti i suoi mercati li potete trovare e poi uno particolare e uno anche protego quindi se questa tipologia di video vi sta piacendo, comunque anche questi video di atleti vi stanno piacendo se vi fa piacere lasciate un pollice in su e se volete iscrivetevi al canale allora io inizio subito dal classico e quindi dal classico vi lascio anche i valori nutrizionali e di tutti perché ovviamente non lo sto qui a ricordarveli tutti perché non sono un calcolatore di calorie umano allora qui abbiamo il kit kat che andrò a confrontare con lo Zero Break Protein Dio Prozis quindi andiamo con l'originale, anzi io assaggerai prima quello là proteico e poi l'originale è un bel mattoncino è bello grande profumo ottimo, mi piace vamos buono però forse non ho mangiato così ma ho messo su un po' il rizzo su un po' il rizzo perché cambia invece così sta proprio di cioccolato molto molto scadente sinceramente non mi fa impazzire, lo sapete cosa sento io è in questo prodotto, le proteine al cioccolato io sento proprio proteine assomigliare un po' al gusto delle proteine della Biotech USA che mamma mia vabbè ragazzi si è rotto tutto questo invece è il kit kat classico al cioccolato a barretto ormai lo conosciamo tutti mamma mia è buonissimo che bello di caffè che bello di caffè è buono tra le due sinceramente questo proteico non ha niente di che perché io penso vedete c'è all'interno non si vede a parte che è diviso tipo in tocchetti quindi vi potete fare piccole parti oppure lo spezzate se facevano tipo come questo qui che all'interno è chiaro invece questo è scuro quindi presuppongo che anche il biscotto all'interno sia cioccolato invece se mettono proprio tipo la cialda era completamente diverso era molto buono poi andiamo a provare il fondente io se non sbaglio questo l'ho provato però non mi ricordo questo è il dark 70% assaggiamo io ovviamente non so mai e dico mai aprire le confezioni lo ho qua uno no non l'ho mai assaggiato no l'unica cosa dark è sto muschillo l'unica cosa dark che ho assaggiato era il come si chiama il kinder bueno il kinder bueno dark è spettacolare questo sapete cosa sembra? la cioccolata della Lind uguale stesso sapore però 90% io sinceramente se in quello normale prima arriva proprio anche il biscotto qui no qui sente solo di cioccolato fondente basta è finito non mi arriva quel sapore anche del biscotto no della cialda no solo fondente questa cosa non va bene però devo dire che chi piace il cioccolato fondente è molto buono andiamo concludiamo tra virgolette perché poi ci sono i pezzi forti concludiamo con il kit kat bianco così ci puliamo anche un po' la bocca anche se io devo prendere l'abitudine di portarmi l'acqua con me allora andiamo col bianco vabbè io il mio io che non so aprire mai le confezioni vai rompi tutto ah quando qui c'era l'apposita va bene eccole qui mamma mia questo è proprio di burro assaggiamo no vabbè questo è spettacolare mmm e e e ma io come decido tra i tre allora tra il bianco il marrone è il dark io do ma questo è proprio buono do un bel otto e mezzo al bianco do un bel set a questo normale e un bel set e mezzo a questo qui nero perché era molto buono questo qui proteico invece è mi do un set e mezzo solo perché sono sprecate a farlo proteico sinceramente niente di che veramente non è come se comprate se andate su prozis oppure o il supplement le vende le barrette della prozis con all'interno il cioccolato eh sì è il cioccolato Giulia si vede che è tornata appena nella scuola guida sì ho trovato il riso soffiato uguale uguale sono uguale stesso sapore quindi adesso io vado a prendere un attimo l'acqua bevo e poi assaggiamo i tre pezzi forti ma non vedo l'ora eccoci qua insieme ad assaggiare i tre pezzi forti allora io inizio da questo kit cat allora io non ho capito di cosa sa ruby cocao beans sinceramente io non ho capito di proprio il gusto ma apriamolo cioè la confezione è troppo bella ma come si fa no vabbè sono rosa no no vabbè no sarà di cioccolato bianco no ragazzi sono troppo belli fragola un lampure mi piace frutto di bosco e me lo vassamiz no raga non riesco ma lo stesso muscolo non riesco a decifrare il sapore ve lo giuro fatemi sapere voi se l'avete provato e di cosa sa chi mi sta chiamando allora raga mi chiamano in condizionazione questi numeri e poi io le blocco perché inutili no raga io non ve lo so dire di cosa sa zero vabbè fatemi sapere voi quindi questo rimane in sospesa non sto scioccata perché non riesco veramente a capire penso fragola questi frutti un po' così sa molto di cioccolato bianco questo sta scritto proprio bello tè macia questo è un retto che fa letteralmente pena ecco comunque si aprono così le confezioni aspettate visto che abbiamo quasi finito Giulia ha capito come aprirle eccolo si aprono così si sente tantissimo di tè ma va no vabbè bellini assaggiamo no ragazzi sinceramente chi compra queste cose e poi dice che fa pena deve anche sapere che se sa di tè macia almeno deve sapere di tè macia almeno questo sa di qualcosa e vi posso dire che vi rimane proprio la bocca di tè a me il tè piace infatti tipo io adoro di più assomiglia però un po' tè verde stiamo là secondo me tè verde oppure tipo pure come si chiama quel tè io non le bevo cioè non le bevo sempre il tè tradizionale assomiglia tantissimo sinceramente per me è molto buono poi all'interno c'è anche un po' di cioccolato però me lo posso dire che rispecchia sì no mi piace per me il mio giudizio tra quello rosa e questo verde io preferisco il verde perché almeno il verde il verde vi lascia proprio quella bocca di tè cosa che il rosa non vi lascia la bocca di niente non vi lascia nessun sapore quindi io sinceramente vi consiglio il verde e non il rosa strano sta cosa ma sì guarda mi sono scioccata andiamo con l'ultimo kit kat questo qui è un kit kat crunchy no no non dico più stronzate avrei detto crunchy ma non è crunchy bianco io penso che è la stessa cosa però che fanno due cose uguali questo video è un po' un buo sapete che io sono così quindi ci sta almeno ci facciamo due chiacchiere insieme sì vabbè Giulia rompi tutto tanto allora mi sento così all'interno così assaggiamo io sento solo burro ve lo giuro sono completamente diversi proprio il sapore sono diversi cioè questo non sa quasi niente invece quello bianco piccolino o perché era molto più sottile era molto più intenso questo è come se perda molto no 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 non so di niente delosissima quindi per me ma mai oggi è uscito così questo video vi stavo concludendo il video ma è morta la batteria della videocamera vabbè vi stavo dicendo che tra questo e questo io preferisco questo qui per me questo qui vince proprio su tutto e quindi niente io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando già ve l'ho detto un po' leggendo in su iscrivetevi al canale mi raccomando seguitemi su instagram quindi niente io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao